Benvenuti Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri davvero più sinceri, più affettuosi a Serena Colarusso e Alessandro Cameli che proprio questa mattina hanno coronato il loro sogno d'amore unendosi in matrimonio nella chiesa dei Cappuccini a Campobasso. Serena e Alessandro si sono conosciuti anni fa e ora hanno deciso di mettere su famiglia. Tra l'altro si tratta di due bravissimi ragazzi, li conosco entrambi, ai quali sicuramente va raccomandata naturalmente soltanto quella serenità che è necessaria quando si prendono evidentemente decisioni che poi mettono a frutto un fidanzamento durato per tanto tempo. Quindi a Serena e Alessandro, ai loro genitori, ai genitori della sposa Rosa Trivisonno e Lino Colarusso, ai genitori dello sposo Peppino Cameli e Antonietta del Papa e naturalmente a tutti gli altri parenti, vanno davvero gli auguri più affettosi, più sinceri da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Calcio di Serie D, il primo derby della stagione, se l'è aggiudicato il Campobasso a Selvapiane e Rosso-Blu ieri pomeriggio, si sono imposti per 2-1 sul Termoli. Turno preliminare di Coppa Italia, Mosconi conferma uno spartito da 3-5-2 con Corvino a supporto di Ripa e Di Nardo, esordio per Maldonado, conferme a centrocampo per Tordello e Ricamato. Martino del Termoli rinuncia a Esposito e Vitiello dal primo minuto in attacco per i giallorossi, Hernandez e Corcione. Dirige il signor Marchetti di L'Aquila, presente l'ex goleadoro Rosso-Blu, Rosario Maiella in tribuna, il pubblico risponde presente. A Selvapiana la quota spettatori tocca le 2.500 unità con 200 supporters giallorossi. Gli spalti offrono spettacolo in un torrido pomeriggio di agosto. Dal punto di vista del palleggio migliore l'approccio ospite, dopo un solo minuto Grossi riceve bene da Gabrielli, calcia di destro ma Ricamato interrompe bene. Al terzo spunto di casa con Ripa che trova bene un solitario Di Nardo, il suo tiro si spegne fuori. Rapida ed interessante qui la manovra Rosso-Blu. Al quinto la punizione di Corcione è abbrancata dal portiere Esposito. All'ottavo altro varco che si apre nelle maglie Rosso-Blu, il destro di Hernandez termina a lato. Qui grossa palla gol per il Termoli. Si levano forti protestero su Blu al quindicesimo quando Cagliazza del Termoli respinge così un tiro di Corvino. Per il signor Marchetti si può giocare. Riprende la sfera ancora l'attaccante di casa che trova la respinta di Lombardo. Derby molto acceso sin dalle prime battute. A sbloccarlo ci pensa l'estro e la precisione di Luis Maldonado che al 22esimo dipinge una traiettoria straordinaria direttamente da calcio di punizione. Selvapiana esplode di gioia mentre il neo centrocampista va a raccogliere l'abbraccio della sua pichina. Il Campobasso cala il bis. Nel giro di pochi minuti al 27esimo un contropiede condotto in inferiorità numerica viene tramutato in oro dai giocatori di casa. Da Di Nardo che taglia a fette l'area giallorossa per Ripa che insacca in scivolata. Vana la parata di Lombardo. Siamo ora Campobasso 2 Termoli 0. La partita è nelle mani dei Rosso Blu che al 32esimo sfiorano anche il Tris. Sempre con il piazzato di Maldonado che stavolta esce di un soffio. Il Termoli dopo un buon inizio accusa il colpo e non riesce più a farsi insidioso. Nel finale di tempo al 43esimo sono i Rosso Blu a sfiorare il Tris. Punizione di Corvino. Tocca ricamato di testa a seguire. Non ci arriva Di Nardo. Al primo dei tre minuti di recupero in comprensione fra Esposito e Bonacchi. Il rinvio del portiere di casa è sui piedi di Gabrielli che calcia non troppo pulito e allato. Al rientro negli spogliatoi attimi di tensione fra Mosconi e Martino ma tutto rientra nel giro di poco. Immagini di Giovanni Orefici alla ripresa dei giochi Termoli in campo con Vittorio Esposito e Barchi. Al posto di Monteiro e Corcione. Nessun cambio per Mosconi. Al settimo destro di un volitivo Tordella parato a terra da Lombardo. Al dodicesimo Mosconi getta nella mischia Gonzales e Cannini. Il luogo di Ripa e Pontillo a seguire. Martino completerà i cambi con tre ingressi. Quelli di Izquierdo, Vitiello e Rinella. Al posto di Garzia, Grossi e Gabrielli. Al diciottesimo si prepara a calciare Esposito ma lo fa senza inquadrare la porta. Il campo basso al trentatreesimo schegge il palo con un destro preciso di Mengani Mosconi. Fa entrare anche a Breu per Di Nardo ed il neo arrivato Tarcinale al posto di Tordella applaudito dal pubblico di casa. A dieci dalla fine il Termoli riapre la contesa. Lo sgambetto di Gonzales su Hernandez è da punire con il calcio di rigore. A detta del signor Marchetti dal dischetto Esposito batte il suo omonimo portiere. I giallorossi si fanno sotto e al quarantesimo vanno a sfiorare il pareggio. Discesa di Esposito, palla al centro per Vitiello che trova il muro eretto da Nonni. Passa un minuto dentro a Boncele per Maldonado nei Campobassani. Al quarantatresimo i locali potrebbero risparmiarsi qualche sofferenza. Esce bene Bonacchi e offre ad Abreu che manda al lato davvero di un soffio. Sotto la nord Scorrano termina con il passaggio del turno meritato del Campobasso contro un Termoli discreto. A fine gara gioia condivisa fra pubblico e squadra. I giallorossi ora con la testa solo al campionato. Il Campobasso domenica sarà ospite del Vasto Girardi per il primo turno di Coppa Italia. Ospite d'eccezione per l'esordio ufficiale del Campobasso, l'ex attaccante Rosario Maiella. Il bomber d'origine campana ha lasciato nella tifoseria del capoluogo ricordi fantastici sia come giocatore che come uomo. Noi lo abbiamo avvicinato. Rosario Maiella allora una piacevole sorpresa a Selvapiana in occasione di Campobasso Termoli di Coppa Italia. Lo ricordiamo bomber rosso-blu per tre stagioni, 88 presenze e 64 reti con la maglia del Campobasso. Questo Campobasso all'esordio ti è piaciuto? Sì, sì, mi è piaciuto. Cancellerei volentieri i primi dieci minuti, poi del resto è una squadra che si vede che ha lavorato in ritiro, ben organizzata, inizia a fare quello che viene chiesto dall'allenatore e quindi come prima gara direi tutto molto positivo. Una squadra molto fisica questo Campobasso con delle individualità veramente che possono fare la differenza. Citerei Maldonado, ma insomma ci sono altri giocatori interessanti. Di Nardo, lo stesso ricamato, una squadra che a tuo avviso può dire la sua per il vertice? Sì, sì, assolutamente. Io ho sempre detto che il girone F, sfortunatamente per il Campobasso, è quello più difficile perché a livello tecnico-tattico ci sono tante squadre che comunque vorranno dire la loro e poi quest'anno comunque ci saranno squadre attrezzate come Aquila, Penso, perché ancora non ci sono i gironi, però è un mio pensiero, Aquila, Avezzano, Chieti, San Benedettese e il Campobasso. Quando si gioca a Campobasso non si può giocare che vincere, però come ho sempre detto vincere è sempre difficile, però la squadra è ben impostata e poi se mancherà qualcosa comunque strada facendo la società sarà vigile sicuramente. Dall'altra parte c'era un Termoli che ha messo a disposizione i suoi mezzi tecnici, ha provato anche a riaprire la partita. Ci è piaciuto soprattutto all'inizio il Termoli? No, no, ma il Termoli è una squadra che è ben allenata, è molto giovane, con un allenatore che c'è coraggio, che lavora bene con questo tipo di squadra per chi cambia modulo spesso. è una squadra che secondo me ha raffastito a molte squadre del girone, perché sì, è vero che sulla carta è stata costruita per la salvezza e quindi quello sarà il loro obiettivo. Anche oggi comunque strutturalmente si vede quando una squadra è impostata per i piani alti della classifica oppure chi deve avere altri obiettivi, ma sono fiducioso che il mister Martino comunque farà la sua figura arrivando al suo obiettivo. Diciamo che il pubblico di Campobasso ha stupito in positivo, 2500 presenze in una domenica di agosto, c'era da aspettarselo o forse anche no? Insomma ci ha stupito in positivo. Ma sinceramente se sono tornato a Campobasso è perché avevo bisogno di quest'area. Era un bel po' di tempo che di notte sentivo lo stesso profumo di quando ci giocavo e quindi era arrivata l'ora di arrivare qui e di entrare in questo stadio anche solo per farmi due passi. Poi vedere anche questa gente e poi questa curva così quasi tutta piena è un'emozione indescrivibile. Quindi un cordone umbilicale che non si è mai troncato con Campobasso, anzi hai bisogno ogni tanto di venire. E adesso cosa fai a livello calcistico a 43 anni ma con un fisico assolutamente integro? Ma diciamo che ho deciso da poco di smettere perché fino all'anno scorso stavo giocando, non stavo divertendo in categorie inferiori. Però è arrivato anche il momento, ecco, siccome questo è uno sport che ce l'ho da quando ero piccolo ed è pura passione, diciamo che vorrei intraprendere la carriera di dirigente, di direttore sportivo. Quindi sono un paio d'anni che già sto seguendo questo campionato, conoscendo quanto più giocatore possibile e poi appena avrò la possibilità di mettere in pratica anche le mie competenze. Allora ti aspettiamo qualche altra domenica a Selvapiana per le partite interne del Campobasso? Assolutamente sì, perché questo è un girono che mi è sempre piaciuto. Quindi ci sono giocatori veramente interessanti, quindi tra giovani e giocatori quegli esperti c'è un bel po' da vedere. Il Campobasso, dopo aver superato il turno preliminare della Coppa Italia, viaggerà domenica prossima alla volta di Vasto Girardi. Per gli altomolisani sarà la prima uscita ufficiale della nuova stagione. Mister Bifini ha avuto modo nel fine settimana di vedere all'opera i suoi ragazzi nel test amichevole contro la primavera del Napoli. Risultato 2-1 in favore dei partenopei. Anche l'FC Matese entrerà in scena nella competizione tricolore da domenica prossima. Avversario di turno sarà il Real Casalnuovo, ex titolo afragolese, in trasferta. Anche gli uomini di Urbano nello scorso weekend hanno disputato un allenamento congiunto con la primavera del Benevento terminato 2-2. Calcio regionale nello scorso weekend si è giocata la prima giornata della Coppa Italia. Nel girone A l'Iserni ha battuto 11-2 l'Altiglia Samnium, la Gioiese ha vinto 5-2 contro il Morcone. Nel raggruppamento B, Sesto Campano e Roccaravindola si sono imposte rispettivamente per 1-0 sul Vairano e 3-0 sull'Olimpia Agnonese. Per il girone C, Real Prata-San Pietro in Valle è terminata 0-1, mentre il Venapro ha vinto in casa contro il Forulum 6-1. Girone D, Cassel di Sangro, Aeserni a 3-2. Spinete, Aurora, Alto Casertano 0-3. Per il girone E, il Boiano ha strapazzato a Colalillo la neopromossa nel campionato di promozione Torre Maggiore. Al via la fase a gironi della Coppa Italia regionale, al Colalillo si gioca Boiano-Torre Maggiore, gara appartenente al raggruppamento E, che vede protagonisti anche Baranello e Termoli 2016, arbitra il signor Colella della sezione di Termoli. Boiano che fa subito riemergere la differenza di categoria e lo stato avanzato di preparazione rispetto dell'avversario. Siamo al nono di Allò sul settore di sinistra, assista al bacio per Perrella, che attacca lo spazio. Apre il piatto destro e batte Sacco per l'1-0, dodicesimo Mauriello dalla bandierina per la testa di Tasillo, che sotto misura porta a due le marcature boianesi. Trascorrono tre minuti la percussione di Diallo, atterrato in area da Beccia per Coletta. E tiro di rigore dagli 11 metri, Barbato spiazza Sacco per il 3-0. E sempre più un monologo matesino. All'avventesimo il numero 7 prova a replicarsi a tu per tu con il portiere avversario, ma alza troppo la mira. Trentasettesimo di Allò dalla distanza, vede il portiere leggermente fuori dai pali, prova a sorprenderlo, ma la sua girata non va a buon fine e 3-0 al duplice fischio del direttore di gara. Siamo al settimo nel corso della ripresa. Il gol annullato a Perrella, che va a realizzare dopo un controllo con l'ausilio del braccio, resta soltanto la bellezza del gesto tecnico. Al dodicesimo Sabatino al volo si coordina in piena area, Sacco con un bel riflesso. Alza in corner il poker solo rimandato per il centro avanti, Biancorosso Perrella. Arriva al quindicesimo con la sua doppietta personale. Alla termine di una conclusione vincente ad incrociare. All'avventotesimo si scrive al tabellino dei marcatori anche il neo entrato di Nucci. Classe 2006 supera il diretto avversario e segna il pokerissimo. Prosegue il festival del gol al Colalillo, minuto 32, dopo una serie di batti e ribatti. Negli ultimi 16 metri Perrella trova il suo terzo centro personale ed il sesto complessivo. Per la squadra di Mr. Gianni Roberto, che al trentacinquesimo fissa il definitivo sul 7-0. Il marcatore Anciaba, che si lancia a rete, salta l'estremo difensore. Inutile il tentativo di salvataggio. Per l'arbitro il palone ha varcato la linea di porta. Vittoria per il Boiano, primi tre punti nel girone. Boiano prossimo avversario del Baranello, mentre il Torre Maggiore nel prossimo turno se la vedrà contro il Termoli 2016. A completare il raggruppamento è Baranello e Termoli 2016, che si sono affrontate sabato in anticipo. Hanno vinto gli Adriatici. La stagione 23-24 parte ufficialmente con la prima giornata di Coppa Italia. Per il girone E al comunale i padroni di casa del Baranello ospitano il Termoli 2016, che si aggiungono a Boiano e al Torre Maggiore. Mr. Viglione, neotecnico dei locali, per il debutto sceglie il duo di punte venditti con la Lillo. Ospite che rispondono con il tridente Recchia, Letto, Impicciatore. Abita il signor di Domenico della sezione di Sernia nel montaggio di Gabriele Dichiro. Vediamo com'è andata. Cronaca che si apre al quinto. Ospiti pericolosi con questo sinistro sul fondo di Ciancaglini, servito da Letto. Passano quattro minuti, risponde il Baranello. Cross di Valletta, Niro di testa, impegna a terra. Capozzi, minuto 22. Pericoloso Impicciatore con due conclusioni nel giro di 30 secondi. Nell'ultima è bravo Manocchio che la mette in angolo. Dal successivo corner batte Pardi che trova la testa vincente di Capitano Scarpone per l'1-0 Termoli 2016. Locali che accusano il colpo. Minuto 39, Letto scatta in posione regolare. Serve Impicciatore che supera il portiere e deposita in rete il più facile gol. 2-0 ospite. Minuto 42, Baranello ha un sussulto e accorcia con Zurlo che raccoglie un tiro sbagliato di Capitano Niro. E col destro batte Capozzi, 1-2. Finisce qui il primo tempo. Passiamo alla ripresa dove con il Gran Galdo calano i ritmi. Minuto 10, ha segnato un calcio di rigore al Termoli per questo fallo di Dichiro su Impicciatore. Per l'abito non ci sono dubbi. Penalti dal dischetto va lo stesso 9 che segna la doppietta personale. del 3-1 ospite. Minuto 23, gol annullato a Colalillo dopo un piazzato di Zurlo. Bandiera in alzata è tutto fermo, i dubbi rimangono. L'ultima occasione è la regista del 29esimo con il definitivo 4-1 firmato da Arecchia che gira in porta al volo. Non succede più nulla, primi tre punti per il Termoli che si prepara a sfidare il Torre Maggiore. Per chiudere il discorso qualificazione, per il Baranello cappa o pesante ora testa al Boiano per provare a fare meglio contro un'altra squadra di eccellenza. Nel girone F la Cliternina si è imposta 6-0 sul Trivento. Il quadro è stato completato dalla sfida tra Busso e Ripalimosani. A proposito di quest'ultima gara, le azioni salienti. Una zampata di Marco Dell'Aventura nel recupero regala a Ripalimosani il primo successo stagionale sul campo della Chaminade. A Busso nella sfida che segna l'esordio delle due squadre in Coppa Italia nel raggruppamento F, i ragazzi di Martinelli escono dal campo a testa alta, alzando bandiera bianca solo nel finale. Tra gli ospiti Out Guglielmi, Bentivoglio manda in campo tutti i nuovi acquisti. Sull'altro fronte, i padroni di casa si affidano ai senatori del gruppo per arginare il giallo-blu. Direzione di gara affidata a Giulia Sappracone della sezione di Termoli, assistita da Roberto Grittano e Gianmarco Meo. Al secondo, corner calciato da Di Lallo, palla che attraversa l'area, Scudieri la rimette al centro e Delia stacca di testa, senza riuscire ad imprimere forza al pallone. Di Stasi blocca. Al ventiquattresimo si vede la Chaminade. Borsella offre a Pastore, conclusioni a lato dopo il fischio dell'arbitro per fuorigioco dell'attaccante di casa. Passano 60 secondi e Fazio ci prova dalla distanza. Di Stasi non si fa sorprendere. Squadre negli spogliatoi, sullo 0-0. Con le immagini di Alberto Pietrunti siamo alla ripresa. Nonostante il caldo, i 22 in campo non si risparmiano. Il ripa si vede al quindicesimo. Fazio, palla per dell'avventura, conclusione fuori bersaglio. Cinque minuti dopo, lo stesso numero 7 ospite ci prova di controbalzo, senza però creare particolari problemi a distasi. La Chaminade si difende con ordine e cerca di chiudere tutti gli spazi, ma rischia al 27esimo, quando Fazio serve in profondità dell'avventura. Di Stasi è provvidenziale in uscita. Tre giri di rancette più tardi, ancora ospiti pericolosi. Cristofaro serve Ricciardi, che mette al centro un gran pallone. Nel cuore dell'area, Fazio aggancia e conclude. Con Distasi a terra, è decisiva la deviazione in angolo di De Santis. Minuto 39. La Chaminade prova a sorprendere gli avversari in contropiede. Borsella, lanciato in profondità, trova sulla sua strada Scudieri, che va in anticipo. Nella circostanza, timide proteste locali per un possibile tocco di mano del difensore. Sappracone non ravvede irregolarità. Scampato il pericolo, Di Rienzo ribalta il fronte. Tedeschi offre a Fazio, che tira a lato. Minuto 43. Percussione di dell'avventura in area locale. Su di lui interviene Episcopo, ma anche in questo caso il fischietto termolese lascia correre. La Chaminade ci prova nel primo minuto di recupero, con Piscopo, che non inquadra lo specchio. La sfida sembra destinata allo 0-0, ma nel lungo extra time il Ripa trova le ultime energie e al cinquantesimo sblocca la contesa. Tedeschi crossa al centro. Di Stasi, ostacolato da un compagno, non riesce ad intervenire e dell'avventura a porta sguarnita realizza il gol dello 0-1. Primo successo per il Ripa Limosani, che domenica prossima sarà di scena a Trivento. Per la Chaminade, invece, seconda gara al pinto contro la Cliternina. Nel girone G, Montenero-Cuglionesi è finita 1-5. La Turris, invece, ha vinto 1-0 contro la Juvenes. Parte col piede giusto la Turris, che si aggiudica il primo confronto, quello che dà inizio alla stagione ufficiale 2023-2024. Nella prima di Coppa, la Turris batte con il minimo scarto fra le mura amiche allo Ianiri di Rotello, una buona polisportiva AM Juvenes. Il gol vittoria è firmato alla mezz'ora del secondo tempo e porta la firma di un ragazzo emiliano arrivato in Basso Molise, arrivato a Carpi, in provincia di Modena, e Barolo. La cronaca al secondo il primo tentativo della Juvenes, con Arco che dal limite si gira con il sinistro. Il portiere Italo Albanese Ila, in tuffo, riesce a ribattere la conclusione. Maggina gioco alla Turris, che cerca il gol al diciannovesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da D'Ambrosio. Gira viola con la spera, che però viene deviata in calcio d'angolo al ventiquattresimo di nuovo sotto la Juvenes, che ha lasciato giocare molto nel primo tempo la Turris. Però è stata la squadra che ha cercato più volte la via del gol. Ventiquattresimo a Zizza, due tocchi in area, si gira con il mancino, ma la spera termina sul fondo. Al trentaduesimo Arco ci prova dal limite, la sua conclusione però abbondantemente alta sulla traversa. Nel finale del tempo si vede la Turris sugli sviluppi ancora di un calcio d'angolo battuto da D'Ambrosio, questa volta dalla destra. Mancino gira per Mascia, la girata di Mascia con la parata di Moffa. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nel secondo tempo. Mezz'ora di sbadigli, ma soprattutto di gran caldo in Basso Molise con le due squadre che si studiano. Fino alla mezz'ora quando D'Ambrosio disegna l'angolo perfetto per la testa di Barolo, che incorna per realizzare il gol del vantaggio, ma anche il gol della vittoria per la Turris. Timbrata al trentesimo, otto minuti più tardi, è ancora Barolo scatenatissimo a cercare la conclusione vincente. Questa volta dal limite con Moffa che però va a parare la conclusione a terra, quarantunesimo lo spazio per l'ex Ururi Santogliani che di forza ci prova dei 20 metri. La sfera termina ancora alta sulla porta difesa da Moffa. Nel finale a Zizza ha il lampo giusto per cercare di rinquadrare la partita in suo contropiede, però viene mal sprecato con la conclusione con il Mancino, con la sfera abbondantemente alta sulla traversa. Vince la Turris che batte la polisportiva Juvenes per 1-0. Il primo turno di Coppa Italia è stato chiuso dal girone H, dove si sono affrontate Riccia Campomarino, terminata 2-0 con doppietta di Di Griscio e Fortore Calena 1-0. Volle di Serie B, l'Energy Time Spike Devils, oggi presso la palestra Montini, riprenderà le sedute d'allenamento. Ai nostri microfoni Livio Ceccato, una delle new entry. Livio Ceccato, opposto dell'Energy Time Spike Devils Campobasso, per te un ritorno? Sì, per me un ritorno molto felice, perché come ho già detto, per me Campobasso è casa. Qui ho conosciuto persone meravigliose nell'ambiente parabolistico e non solo, quindi sembra una frase fatta, però veramente sono molto contento di ritornare in quella che appunto reputo casa mia. Che cosa ti ha spinto a sposare questo progetto quest'anno con una squadra per lo più rinnovata? Mi ha spinto il fatto che comunque, conoscendo anche molto bene il mister Maniscalco, che negli anni mi ha saputo valorizzare, ha saputo tirare fuori il meglio di me, limitare alcune cose negative, alcuni aspetti tecnici e tattici, quindi questo è stato comunque un motivo in più per ritornare qui e poi anche perché comunque è stato allestito un roster di tutto rispetto, con la speranza appunto e gli auspici di fare bene. Gironi G per voi, insieme a squadre laziali e campane, ti chiedo secondo te come sarà questa annata e se conosci anche qualche squadra che andrete poi ad affrontare? Come ho detto anche in precedenza ogni girone che sia laziale, campano o di altre regioni presenta insidie, quindi non è da sottovalutare nessuna squadra, anche quello che potrebbe essere il fanalino di coda e l'abbiamo visto anche due anni fa quando ero qui a Campobasso, insomma bisogna avere sempre la massima concentrazione, qualche squadra la conosco, mi viene in mente ad esempio Casoria che gioca con il mio compaesano Fabio Rusco che è un bel roster, quindi tanta attenzione, tanta concentrazione dal primo allenamento da oggi fino alla fine. Su cosa vi concentrerete in questi appuntamenti per farvi trovare pronti poi ad ottobre quando partire il campionato? Ci concentriamo su tutti gli aspetti, sia l'aspetto fisico, quindi di preparazione fisica, ma come ho detto, specialmente non solo tecnico e tattico, ma anche per me è tutta una questione anche molto di testa, quindi sarà un allenamento, anche quello sarà un allenamento non da poco. Si partirà per l'appunto ad ottobre la prima contro la Fenice Roma? Sì, ci faremo trovare carico, questo è poco ma sicuro. Già ad oggi subito testa al campo e dobbiamo arrivare dritti verso l'obiettivo, uniti. Per il Futsal, vacanze finite per il Cus Molise. Oggi la squadra si ritroverà al Pala Unimol per dare il via alla nuova stagione, la prima in Serie A2, elitta. Gli ordini di mister Sanginario e del suo staff ci saranno vecchi e nuovi atleti pronti a confrontarsi in un campionato di assoluto livello, la seconda Serie Nazionale. La prima settimana di lavoro si svolgerà con doppie sedute. La mattina verrà curata la parte atletica, mentre la sera si lavorerà sulla parte tecnica. Futsal regionale in occasione della Sagra del Pomodoro a Montagano è stata inserita anche la presentazione della squadra di Calcio A5 che nella prossima stagione affronterà il torneo DC regionale. Roberto Valente, lei questa sera in doppia veste, membro della Commissione DECO ma anche dirigente del GSD di Montagano perché questa sera ha anche la presentazione della nuova squadra che parteciperà alla Serie C regionale. Sì, è una bella doppia veste. Abbiamo trovato questo connubio. Abbiamo deciso quest'anno di unire la nostra peculiarità montaganese che è il pomodoro con lo sport perché siamo anche convinti che la buona alimentazione e lo sport siano una coppiata perfetta. Siamo ripartiti da un paio d'anni dopo le difficoltà del Covid con il GSD Montagano, con il campionato di Serie C. L'anno scorso ci siamo ben difesi, abbiamo vinto la Molise Cup. Quest'anno con qualche cambiamento e qualche nuovo innesto guidati da Mister Piacci abbiamo deciso di fare una bella squadra, un bel gruppo fatto da persone di Montagano e persone anche ovviamente di Campobasso che ci danno una mano e puntiamo a fare un buon risultato in campionato. Quindi un in bocca al lupo lo faccio a me, lo faccio a tutta la squadra, lo faccio all'allenatore e a tutti quelli che ci verranno a seguire. Quindi le prospettive per questo campionato sono sicuramente molto alte? Sono buone, sì. Speriamo di... Io non voglio essere troppo ottimista però sicuramente ci divertiremo e faremo un bel campionato e ci toglieremo qualche bella soddisfazione. Invece come membro d'Eco ricordiamo l'importanza di queste iniziative per valorizzare sempre di più quelli che sono i nostri prodotti in particolare in queste giornate perché sono due giornate dedicate al pomodoro di Montagano. Certo, il pomodoro è il prodotto che ci rappresenta di più. Io sono diversi anni che partecipo alla Commissione d'Eco da membro, sono stato amministratore di questo paese e sono anche un piccolo agricoltore. Quindi quando vado a portare il pomodoro di Montagano fuori da Montagano è sempre un piacere perché le persone lo apprezzano, lo mangiano e lo riconoscono come un prodotto che fa bene e fa stare bene. E quindi tanta promozione, tanta valorizzazione. Montagano è rappresentato da questo prodotto. La maglietta che indossa è proprio l'impronta di Montagano. Quindi è un piacere sempre promuoverlo e speriamo di poter crescere perché manca un aiuto anche politico. e quest'anno con la nuova giunta regionale io spero che ci sia domani sera ci saranno anche rappresentanti del nuovo Consiglio regionale spero che ci sia un aiuto forte sia per quello che riguarda le aziende che lo producono sia per quello che riguarda il problema dei cinghiali che ci ammazza. Quindi queste serate servono anche a questo a far capire alle persone quanto è importante il supporto politico e economico della regione e delle istituzioni. Per il tennis prosegue il torneo Open di Isernia ultima settimana di sfida presso il circolo tennis del maestro Colalillo che ha visto confrontarsi giocatori di terza categoria e atleti semiprofessionisti di serie B. La finalissima in programma domenica prossima 3 settembre. E' tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio!